Ancora una volta MVP del match, anche se ti sei un po' arrabbiato quando sei uscito, tu vuoi sempre giocare? Ah no, un po' arrabbiato perché non riuscivo a fare quello che volevo, però poi MVP è tutta la squadra perché eravamo in una situazione brutta, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti di ricominciare il quarto set molto bene, abbiamo difeso, abbiamo messo proprio il cuore e ci siamo rialzati, abbiamo portato la stessa grinta nel quinto set e sono orgoglioso della squadra che siamo riusciti a rientrare la partita e vincere. Era una risposta importante, se vi è una risposta importante dopo la sconfitta di Monza avete vinto, anche se magari è mancata una certa regolarità nell'arco dei 5-7. Sicuro, noi cercheremo questa regolarità da adesso fino alla fine del campionato, cercheremo di migliorare, di crescere ogni giorno, però siamo contenti che dopo queste due sconfitte contro Monza e Macerata siamo riusciti a tornare a vincere.